E cioè l'onore per la maglia, il mai mollare, il tenere sempre viva una fiammella, abbiamo fatto tre tie break, abbiamo vinto tre tie break e siamo ancora vivi per le Olimpiadi, è merito solo loro, ma davvero. Adesso ci sono altri quattro mesi per lavorare, per andare in Giappone con una squadra che la convinzione l'ha trovata e deve ancora fare qualcosa tecnicamente per inquadrarsi. Sì, tecnicamente alcune delle nostre giocatrici stanno crescendo, stanno facendo un bel percorso, abbiamo avuto solo dieci giorni per lavorare, alcuni automatismi anche oggi avete visti, sono un pochino naufragati in alcuni frangenti, dobbiamo lavorare per trovare la sintonia, l'empatia tra di noi, il gruppo però è questo. Ecco, questa Italia, i tre tie break l'ha vinto tutti 15-13, vuol dire qualcosa? Io credo proprio di sì, dare onore a questo gruppo, a queste ragazze che ci credono veramente, mi fa molto piacere aver ritrovato questa cosa qui, ho più piacere, è un paradosso lo so, ma ho più piacere di aver ritrovato questo spirito più di avere ancora una possibilità di qualificarci per le Olimpiadi.